Dal 21 al 7 agosto nella cornice delle chiese delle piazze più suggestive di Basciano, Penna Sant'Andrea e Cermignano torna Arte in Canto. La nona rassegna di musica lirica è promossa dall'associazione culturale Il Cantiere delle Arti in collaborazione con l'Unione dei Comuni, Colline del Medio Vomano e del Consorzio BIM di Teramo. Per noi è un grande onore ospitarlo all'interno del territorio dei comuni della vallata del Medio Vomano e del Comune di Basciano in particolare. Basciano, come sempre, sarà tra i protagonisti. Abbiamo cercato e stiamo cercando di aiutare e di fare quanto più possibile per questa valida iniziativa culturale perché pensiamo che questo tipo di iniziative culturali vadano quanto più sovvenzionate. Come ogni anno iniziamo con i due concorsi internazionali, cioè il concorso a ruoli, quest'anno l'opera concorso è la Rita di Donizetti. Il secondo concorso è il concorso a premi. Il pubblico che parteciperà alla finale del concorso a Basciano il 23 luglio del 21 praticamente potrà esprimere la propria preferenza tra i finalisti del concorso. Il secondo impegno evento sarà il 24 a Cerminiano. Nella splendida cornice dell'ex Palazzo Tartagliozzi i vincitori del concorso si esibiranno con arie tratte dal repertorio italiano e internazionale. Il 25 luglio metteremo in scena la serva padrona alle 21 alla sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea. Il 2 agosto i ragazzi che avranno partecipato al corso di perfezionamento di canto lirico si esibiranno nella chiesa di Basciano San Flaviano. Il festival si concluderà come ogni anno a Basciano in portapenta alle 21 del 7 agosto appunto con la rappresentazione dell'opera concorso alla Rita di Donizetti.